6 maggio 1889, la Torre Eiffel, inaugurata il 31 marzo, viene ufficialmente aperta al pubblico. Dopo soli due anni di lavori, la torre, costruita in occasione dell'esposizione universale del 1889, è pronta. Costruita per essere abbattuta dopo qualche anno, la Torre Eiffel diviene il simbolo di Parigi. Grazie a tutti.